All'ordinazione sacerdotale di Padre Pio, Padre Agostino tenne l'omelia e il discorso. E in questo discorso fece questa affermazione. Tu non sarai mai predicatore, ma sarai solo un grande confessore. Perché Padre Agostino fa questa affermazione? Ispirazione del Signore? No, niente affatto. Parte da un dato di fatto. Padre Pio era malato. Era malato ai polmoni. A quei tempi non c'erano i microfani. E quindi, specialmente nelle chiese grandi, ci volevano i polmoni. Perché se no non arrivava la voce in fondo alla chiesa. E quindi già si sapeva che Padre Pio non avrebbe mai predicato. Se non ha predicato, però ha predicato diversamente, con la santità di vita. E poi, si unì una decina, una quindicina di donne dal paese, che una o due volte alla settimana venivano qui. E Padre Pio cosa faceva? Printeva il Vangelo, leggeva una paginetta del Vangelo, piano piano, piano piano, e la commentava. E io l'ho detto all'inizio, questo. Di riflettere sulla parola del Signore. Altrimenti è seme che cade e si disperda. Quindi Padre Pio ci ha tenuto moltissimo a educare gente semplice, di terza elementare, come era la scuola di una volta, a produrre, a predicare con la propria santità di vita. E queste donnette, a loro volta, poi giravano le masserie, andavano nelle campagne, e riferivano la lezione che avevano appreso da Padre Pio. Vedete? Altro che dire, e poi se ne parla, adesso io ho c'ho da fare, eccetera. Quando c'è la volontà e la gioia di servire il Signore, le scuse non vengono. Anzi, sono un tono che vengono sempre accettate con gioia dal popolo di Dio. Anzi, sono un tono che vengono sempre accettate con gioia dal popolo di Dio.